Non essere ossessionato dal futuro Con queste parole l'Apostolo Pietro ci presenta la giusta prospettiva secondo cui vivere. Molte persone al giorno d'oggi crollano sotto il peso delle continue ed eccessive preoccupazioni. Gli psicologi stimano che circa il 95% delle cose che ci preoccupano non accadrà mai e il restante 5% 4 volte su 5 le cose vanno meglio di quanto ci aspettiamo trasformandosi in vere e proprie benedizioni. Alla fine solo l'1% di tutto il male che temiamo in realtà accade. Raramente si dimostra così grave come pensavamo. Ecco perché Gesù ci esorta a non essere in ansia per il domani gettando su di Lui le nostre afflizioni una volta per tutte. Invece di preoccuparti inutilmente di ciò che potrebbe accadere in futuro vivi ogni giorno con la piena consapevolezza che Dio si prenderà personalmente cura di te. Grazie a tutti.